Yeah, siamo arrivati alla fine, si accendono le luci qua, tutto quanto, andiamo via? C'è ancora uno eh? Se lo volete sentire, secondo me conviene, perché questo è il caso di un progettista, Roberto Gretter, appassionato origamista a 360 gradi. Voi sapete che origami significa ori piegare, gami la carta. L'origami è tecnica, è arte ed è tecnologia. Da un lato la carta, sublime portatrice di messaggi, musa ispiratrice dai mille volti e dai mille profumi. Dall'altra la piega, l'alterazione di un piano, la brusca decelerazione di un movimento, il cambio improvviso di luce. È la metafora di una trasformazione che ti fa leggere una vita intera. Ori, gami, Roberto, Gretter. Questo è il pangolino di Eric Giosella, è un origami, è piegato da un unico foglio di carta esagonale senza tagli. Le regole dell'origami sono facili. Le regole dell'origami sono facili, si prende un foglio di carta e lo si piega, non si usa la forbice, non si usa la colla. L'origami è un'arte che, e ci vuole un po' di coraggio a dire che è arte, perché quasi tutti pensano che l'origami sia semplicemente un giochetto per bambini. Cercherò di farvi cambiare idea. L'origami al giorno d'oggi è questo. Ogni modello ha un suo autore. Questo è un cavallo di Roman Diaz, che è un veterinario che è abilissimo a catturare l'essenza degli animali. Robert Lang invece è uno dei teorici dell'origami. Ha tra le altre cose formalizzato una teoria di cui vi dirò qualcosina per progettare origami complessi. Questo è un modello mio, una carrozzina tridimensionale. Satoshi Kamiya è noto per creare modelli molto molto complessi, come questa Vespa, mentre invece Zhang Din fa della semplicità la sua arma vincente. Lui lavora col cartoncino bagnato, inumidendolo, riuscendo ad ottenere queste figure plastiche. Eric Giozel è un altro autore, l'autore del pangolino anche, e lui è maestro nel creare figure anche umane e nello sfruttare il volume della carta per creare degli effetti tipo ad esempio le gambe dell'arlecchino. Come si è arrivati a questo punto? Partiamo dalla cosa più semplice, la base quadrata. È un quadrato di carta, vengono piegate le mediane a monte, le diagonali a valle, si richiude e si ottiene questa figura. Si chiama base quadrata e ha quattro alette. Nessuna sorpresa viene da un quadrato, quattro lati, quattro angoli, quattro alette. Piegando un modello di John Montroll, a un certo punto uno si ritrova con questa roba tra le mani, che sembra una base quadrata, ma di alette ne ha cinque, indiscutibilmente cinque. E uno si chiede, ma come? Sono partito da un quadrato, da dove esce la quinta aletta? Il trucco per capire la cosa, per capire come funziona, è riaprire il foglio. Allora uno riapre il foglio e vede che l'autore non ha fatto altro che disegnare un pentagono all'interno del quadrato e ha nascosto tutta la carta in eccesso. Allora il messaggio qui è, se volete capire come funziona, riaprite il modello. Questo è uno scorpione, uno degli scorpioni di Robert Lang. Ha un sacco di punte, per capire come funziona questo, bisogna sapere come funziona un ombrello. Allora immaginate un ombrello chiuso, è la punta piegata. Un ombrello aperto è la carta che serve per ottenere quella punta. Un ombrello più grande darà una punta più lunga. E questo è lo stesso modello, lo stesso scorpione, riaperto. È stato piegato e poi riaperto e sono state segnate le posizioni delle varie punte. Ogni punta è un cerchio, un ombrello. L'ombrello grande, quello blu, è responsabile per la coda. Quelli rossi sono le zampe. Quelli verdi sono le chele. Torniamo adesso alla presentazione perché questa è la figura che avete appena visto. Questa mappa delle pieghe viene chiamata in termini tecnici crisp pattern e questa è la versione originale di Lang dove si vedono tutte le pieghe di lavoro. Quindi il problema di progettare un origami complesso si trasforma nel problema matematico di disporre opportunamente dei cerchi nel piano. Non sono solo cerchi. Vedete che ci sono anche delle figure, sono lievamente sfasate, però indicherebbero quelli che sono dei fiumiciatoli che separano i punti e riescono a dare una topologia al modello. Facciamo un passo indietro. Esiste una vera e propria geometria origami fatta di assiomi, fatta di teoremi. È una geometria che è più potente della geometria con riga e compasso, nel senso che tutte le costruzioni fattibili con riga e compasso sono fattibili anche con l'origami, ma l'origami può farne altre, ad esempio dividere un angolo in tre parti uguali. Un piccolo esempio di geometria origami, partiamo da questo quadrato, facciamo queste pieghe e quello che teniamo è questa figura qui. Sono solo tre pieghe, però si intravede un triangolo grande che io affermo essere equilatero. È equilatero perché i suoi lati sono tre dei lati del quadrato, quindi sono tutti uguali. Ok? E se è un triangolo equilatero questi sono esattamente 60 gradi, quindi io ho una maniera facilissima di trovare 60 gradi da un quadrato. Un altro esempio riguarda la divisione in parti uguali di un foglio. Se voi vedete i punti sulla diagonale, sono sei, e quindi dividono quel segmento in cinque parti uguali. Sull'altra diagonale la divisione è in terzi, quindi con pochissime pieghe che sono quelle che sono evidenziate qui, io riesco a ottenere una divisione in quinti e in terzi. A cosa mi potrebbe servire questo? Magari lo scopriamo dopo. Una delle mosse più belle in origami è il twist. Il twist è basato su un poligono centrale che ruota e una serie di pieghe parallele a due a due che si diramano dal poligono centrale. Si chiama così perché quando si fa questa piega il poligono centrale effettivamente fa una rotazione. A cosa serve il twist? Il twist serve a creare delle rose come questa. Questa è basata su un twist pentagonale, è una rosa di Noa Michisato. Oppure servono a creare delle tassellazioni come queste qui. Guardate in particolare quella di mezzo che tra un pochettino vedrete in un'altra luce. Le tassellazioni possono anche essere molto complesse come questa di Alessandro Weber. Questa ha dei twist a 12 lati, a 3, a 4, a 6. I twist vengono usati anche in tecnologia. Il problema qui è quello di un pannello solare che deve essere impacchettato nel missile o nello shuttle, mandato su e quando è nello spazio deve essere aperto con il minimo sforzo e la minima possibilità di rottura. D'accordo? Questa è la sequenza di mosse che vengono fatte. È questo. Questo è come viene mandato su, dopodiché una volta che è su, si apre. questo è un twist. Questo è un twist e questa è una tassellazione di twist. È l'alveare di prima. Allora, se voi vedete ognuno dei robini esagonali in realtà si può aprire. ok? Quindi questo è, sono molto imparentati tra loro. Io vado matto per gli origami di movimento che sono questi che vi sto mostrando. Questo è un frattale, significa che ho una fila di petali, di 12 petali esterni, uno un po' più piccoli, uguali come forma ma più piccoli come dimensione e questo è un unico foglio di carta. La cosa in qualche maniera sorprendente non è tanto che lui si apre ma il fatto che lui si richiude perché la carta ricorda. Voglio stupirvi ancora con un paio di modelli di movimento. Questo si chiama FlexiCubo. È creato da un'unica striscia di carta che compone 8 cubetti incernierati in maniera da avere questo movimento continuo. Questo è il suo papà invece, FlexiCubo doppia stella. È un modello di Dave Brill. Anche lui è della famiglia dei FlexiCubi e è l'unico modello qui che non è composto da un unico foglio di carta, sono 64 moduli incastrati. Anche lui può girare ma a un certo punto io posso fermarmi, posso aprire lo scrigno e posso estrarre la prima stella. Ma lui si chiama FlexiCubo doppia stella perché le stelle sono due. Vi lascio immaginare quanta geometria c'è qua dentro. Però questo è mezzo cubetto, questo è un altro mezzo cubetto e sono accostati. Ma anche questo è mezzo cubo. Questo è mezzo cubo, la stella, e se io lo giro lui diventa una scatola per stelle, cioè una scatola che ha esattamente lo spazio per tenere una stella dentro. Perché uno dovrebbe fare origami? Allora ci sono un sacco di motivazioni che vanno dall'origami istiga alla manualità, alla fantasia, alla creatività. Fa piacere la matematica ai ragazzi. Il motivo per cui io piego origami è perché è bello, l'origami è magia, è realmente la magia della trasformazione. Due parole sul centro di fusione origami che è l'associazione senza scopo di lucro che raccoglie gli origamisti italiani e organizza convegni, tra le altre cose. I convegni origami sono delle fucine di idee dove ognuno porta i suoi modelli, li espone, li spiega e li fa piegare agli altri. In questa maniera c'è una contaminazione di idee che ha portato tra le altre cose anche ai convegni su origami didattica. Stiamo adesso organizzando il terzo convegno che sarà nel prossimo aprile e è un'ottima occasione per gli insegnanti e gli educatori che vogliono usare l'origami per la loro attività per entrare in contatto con le varie possibilità. Ok, volevo finire con l'orso di Zebe facendovi vedere come si piega ma non so se ho ancora tempo, quindi sì? Ho ancora tempo? Prenditi un minuto! Ti prendo un minuto! Allora, eccolo qua, ho già prepiegato qualcosina perché altrimenti non ce l'avrei fatta, però qui uno già intuisce un pochettino la struttura, questo diventerà un orso, coda e testa. Dalla testa uno ricava in qualche maniera le orecchie e poi la cosa bella è come si forma la testa. Adesso qui serve uno zoom proprio sulla, su questa parte. Allora, prima cosa si piega in su, adesso ho un rombo, ok? Ho esattamente un rombo. Piego su il musetto, poi schiaccio da dentro e chiudo la parte sopra che diventerà la gobba dell'orso e comincia già a formarsi, vedete? Il muso. Ma adesso la mossa, la mossa base è una piega a monte qui, seguita da una piega a valle subito sotto, che fanno comparire il muso dell'orso. È venuto un po' così ma perdonatemi. Questo sarebbe il modello come dovrebbe essere. Ok, ho più o meno finito la mia presentazione. Questo è un modello creato per l'occasione. È un modello che, in pratica il modello ha un taglio, è il teorema un taglio. Quello che succede è che uno ha un foglio di carta, ok? Lo piega, vedete è stata disegnata la scritta TED. Quello che succede è che se uno prende e taglia, cosa che non si dovrebbe fare con l'origami? Però se uno taglia qui, con un unico taglio, riesce a separare le tre lettere e ottenere la figura che si vedeva. Che si vedeva. Roberto Gretter. Grazie. Ascolta Roberto, quando piegate le lenzuola con tua moglie, che ansia. Una roba... No, si fa in un attimo. Avrei un po' di cesti a casa da sistemare, ma tu mi fai uno zoo nell'armadio, sono sicuro. Allora ragazzi, non andate via per favore, perché gli ultimi cinque minuti con questo signore diamo senso a quello che vi avevo chiesto all'inizio, quindi di riportare i pensieri, delle emozioni, delle cose che sono sicuro che tutti voi avrete espresso su questo foglio bianco. Parte il momento art attack, quindi insieme al buon Roberto proviamo a fare una diretta, così, quindi concentration, mi raccomando. Allora, concentration, dovete tenere il vostro foglio in maniera da vedere il disegnino con uno e due in alto a destra. Con due in alto a destra. Uno e due sono le istruzioni, gli origami si tramandano tramite i diagrammi e questi sono esattamente i diagrammi. Il primo passo indica di piegare a metà e riaprire. Quindi quello che conviene fare è portare un angolo sull'angolo opposto, allinearli per bene, con una mano tenete fermo il riferimento, con l'altra mano impostate la piega col polpastrello. Una volta che siete convinti che la piega sia impostata giusta, ripassate col dorso dell'unghia, così. E chi non ha l'unghia? Se la fa prestare dal vicino. Grande. Poi riaprite. A questo punto c'è il passo due. Il passo due stiamo facendo un po' di geometria, dobbiamo fare la bisotrice di quest'angolo, cioè portare la parte alta sulla linea di mezzo, ok? Sia da una parte che dall'altra. Quello che costruiamo è una specie di casetta, come con un tetto. Magicamente dovrebbe comparirvi su una delle alette la figura tre. E questo è quello che dovreste avere dopo aver realizzato il passo due. Il passo tre dice semplicemente di fare ancora una bisottrice, quindi bisogna portare il tetto sulla linea verticale di mezzo, così, sia da una parte che dall'altra. Ancora conviene che una mano tiene il riferimento, l'altra mano imposta la piega solo col polpastrello, quando siete convinti, fate anche la seconda piega col dorso dell'unghia. Senti, senti che ti scricchi un lamento. Magicamente è comparso la figura numero quattro. Sei avanti, sei troppo veloce, aspetta un attimo. Ok, allora, in una classe origami, per capire a che punto siamo, fate così tutti quanti. Ok, c'è in quattordicesima fila uno che l'ha fatta un po' male, però gli altri mi sembrano bene. Ok, anche se, oh, è fantastica. Non ho mai affatto una classe così. Vero? Numerosa di sicuro. Diligente neanche. Diligente, vediamo alla fine se volano. Ok, adesso il riferimento è portare la punta qui, esattamente dove si incrociano le due alette. Questo servirà a evitare di acceccare noi due. Per esempio, che metteremo delle mascherine da sub. Ok, dovrebbe comparire il passo cinque che è una piega a monte, cioè si piega a metà. La temibile piega a monte. No, non è temibile. No, perché è più la bisettrice. La piega a petalo è peggio. Eh, sì, la piega a petalo è una roba. La piega a petalo. Si viene anche alle spine. Ok, dovreste vedere da una delle due parti il passo numero 6 e 7. Il passo numero 6 consiste nel portare la parte lunga dell'ala sulla fusoliera. In pratica stiamo facendo di nuovo una bisettrice di un angolo che però è quassù. Sì, sì, sì. Scusi prof. Magicamente sull'ala dovrebbe comparire la scritta TED per Trento. Fate la stessa cosa dall'altra parte. Sono bravo, prof. Fantastico. Sei assunto. Grazie. Adesso dovete mettere le ali a T. E fermarvi. E fermarvi. Ha preso in tempo. Grazie, Roberto. Un applauso, un applauso anche a voi. Splendidi. Grazie. A questo punto, signore e signori, siamo arrivati al momento di conclusione evento. Quindi chiedo all'ottima Mirta di raggiungerci sul palco con un bel applauso che ci darà lei il momento di accensione dei motori. Grazie a tutti. Grazie per il calore. Grazie per l'autosiasmo che ci avete regalato. Grazie davvero. E adesso è il momento dei ringraziamenti. Datemi qualche minuto per ringraziare tutti coloro che hanno... L'abbiamo fatta. Tegisolento 2015. Il coraggio di osare. Grazie a tutti per il vostro cuore. Siete pronti? Siete pronti? Adesso li facciamo volare. Vai Mirta. Pronti? Tre. Due. Uno. Via. Riempiteci. Grazie. Grazie! Adesso ve li facciamo... Ve li ributtiamo! Grazie! Grazie a tutti! Grazie davvero! Grazie ai volontari, grazie a Mirta, grazie a Dream Team, a Elisabetta Spada. Grazie! Tutti presenti, al prossimo anno! Al prossimo evento! E adesso chiediamo ai FedExer italiani che sono qui con noi di raggiungerci sul palco. Buona serata! Buon brulè! Buon brulè! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.